In ufficio un appuntato dei carabinieri sta piangendo a dirotto sulla sua scrivania, arriva il maresciallo e gli fa appuntato, ma che è successo? Niente maresciallo, stamattina mi hanno ricevuto una telefonata e è morta mia madre. Cioè mi dispiace, vattene a casa. No, preferisco stare qua a lavorare, almeno mi distrago un attimo. Cioè vabbè, fa come vuoi. Dopo un po' ripassa il maresciallo e ritrova che piangono ancora più a dirotto. Ma ha appuntato, ma allora non sta bene, vuole andare a casa. Dice no, no, ma perché sta piangendo ancora? Perché mi ha telefonato mi sorella e dice che è morta pure la sua, le madre.